Dunque, intanto grazie a tutti, grazie agli organizzatori, è un grande onore per me, che sono una storica, non una storica dell'arte, aprire questo bellissimo convegno con una relazione che, come mi hanno suggerito gli organizzatori, dovrebbe, per così dire, allestire il palco per poi l'azione che si svolgerà nelle giornate che seguono. Anzi, devo dire che Tommaso Maffredi mi ha anche aiutato a trovare il titolo, prendendo appunto sfunto da un'esplamazione di Quarenghi, che è il Gran Babela e che è Roma, che descrive sicuramente la città del suo tempo in diversi significati del termine, certo al di là delle intenzioni di Quarenghi, che cercherò di declinare, perché dopo una riflessione, diciamo, mi sono convinta a impostare il mio intervento come una sorta di declinazione di temi ideologici e sociali, dei temi che invece verranno poi sviluppati dai diversi relatori in questi giorni. E spero che così sarà un contributo forse più utile, diciamo, da parte mia, in un consesso di storici dell'arte e dell'architettura. Ora, che Roma fosse una babele, almeno dal punto di vista delle presenze, non c'è dubbio, presenze stagionali, presenze proprietà, solie, presenze stabili, oltre, ricordiamola, una delle più grandi comunità ebraiche della penisola, è una città composita a tutti i livelli della società. Naturalmente siamo abituati, specialmente dopo il rinnovamento degli studi su Roma, quale centro della politica internazionale, ha degli ultimi, diciamo, ormai 40 anni, sicuramente dopo il libro seminale di Paolo Prodi, il sovrano pontefice, del 1982, a riconoscere questa polifonia ai vertici della società romana, cioè nel Sacro Collegio, la presenza diplomatica, le alleanze transnazionali della nobiltà, e siamo abituati a indagarne gli effetti sulle arti in termini di committenza, consumi, mercato, circolazione globale delle opere e dei temi. C'è da notare, anzi, a questo proposito, e forse non lo dovrei dire, in un convegno che si focalizza principalmente sul Regno Unito, che negli ultimi anni c'è stata una significativa ripresa, per esempio degli studi sul mondo iberico, che in fondo, nell'immagine tradizionale del Settecento, sparivano un po' così in dissolvenza dall'universo del Settecento romano. Allora, naturalmente, questo include anche ovviamente gli artisti iberici, e qui è il secondo punto su cui ovviamente di fronte a voi non mi voglio soffermare, c'è questo secondo aspetto della Roma plurale, che naturalmente è quello della presenza degli artisti stranieri, sempre più numerosi e sempre più di contesti diversi, e anche, sottolineiamo almeno quello di confessioni diverse, e qui parlo con, alla mia destra, il ritratto dell'accademico principe Bertel Thorvaldsen, e quindi, diciamo che, lascio parlare Thorvaldsen a questo proposito. Dunque, la babele romana, diciamo così, è accentuata anche, e questo è un terzo elemento notissimo, che è già stato evocato e che sarà evocato nel convegno, ovviamente dai viaggiatori del Grand Tour. Diciamo che, questo davvero è inutile anche a parte una evocazione rapida, diciamo solo che non dimentichiamoci in questa presenza transitoria che fa di Roma una babele, anche tutto quel, si direbbe, turismo religioso, cioè, tutto quei pellegrinaggi e quelle presenze, soprattutto negli anni santi, che portano a migliaia di persone ad arrivare a Roma, e che, in qualche modo, diciamo che dovrebbe essere anche un po' riconsiderato sotto l'aspetto meramente culturale, riconnesso un pochino agli studi, invece, su altri tipi di presenze. E, infine, permettetemi di rievocare brevemente altre presenze che generalmente sfuggono, se non agli storici del lavoro e delle migrazioni, altro campo storiografico in grande espansione, e, appunto, agli storici dell'arte e della musica, per quanto riguarda le commettenze, che sono la presenza stabile o stagionale di lavoratori stranieri da gran parte della penisola e oltre. Una presenza molto variegata, se pensate, solo per fare un esempio, che la nazione siciliana si distingueva poi al suo interno tra coloro che venivano da Palermo, da Messina e da Catania. e direi anche che in questa, vi sembrerà forse strano, che in questa presenza, diciamo, professionale, si dovrebbe considerare tutto il clero straniero, sia secolare che regolare, e soprattutto gli studenti, perché, se si considera che, in fondo, il mondo dei collegi nazionali e confessionali, che era stato messo in piedi all'indomani della riforma, conosce una significativa espansione nel Seicento e ancora nel Settecento, per esempio, con la riforma del Collegio Urbano di Propaganda FIDE. E in questo, diciamo, dobbiamo ringraziare quello che si chiama il global turn della storiografia e che si sta facendo sentire sempre più anche negli studi storico-artistici, se siamo sempre più attenti a questo tipo di presenze e anche a un altro significato della parola babele, un significato, come dire, più tecnico quasi, direi, perché, senza volere troppo accentuare la specificità di Roma su questo piano, perché bisognerebbe guardare alle grandi megalopoli, non solo quelle europee, ma anche quelle mediterranee, per esempio, non so, Istanbul, sicuramente la città del Papa è una città dove si parlano molte lingue, molti idiomi, è un centro, tra l'altro, di studi sulle lingue orientali e sulle lingue indiane, nelle lingue americane, dei nativi americani, in particolare dopo l'arrivo dei gesuiti, i bellici, i portoghesi e i spagnoli espulsi dalle Americhe. E, infine, permettetemi di evocare brevemente la pluralità etnica e razziale, con una significativa presenza, oltre alla comunità ebraica di cui ho già accennato, di moriscos, neri, musulmani convertiti e schiavi affrancati. Anche in questo Roma non è particolarmente speciale, se si pensa alle grandi metropoli degli imperi coloniali, è tuttavia una presenza che, fino adesso, è stata semplicemente ignorata. Tuttavia, c'è un senso più profondo che possiamo attribuire all'espressione di Quarenghi del Gran Babele, che è Roma, e riguarda i linguaggi della città. Cioè, la distorsione che, proprio durante il pontificato di Clemente XIII, di cui Quarenghi vede la fine, inizia a manifestarsi nell'intelligibilità di Roma come, riprendo un'espressione ormai entrata nel linguaggio storiografico di Simon Ditchfield, come icona culturale. Scusate. Cioè, in qualche modo, l'attenzione, lo stridore tra il linguaggio dell'universalismo e il linguaggio del cosmopolitismo che plasmano l'identità urbana, o per meglio dire le identità urbane, l'esperienza di Roma, la sua capacità di irradiazione. Anche qui, permettetemi una breve parentesi storiografica. La nozione di identità urbana si è profilata, come sicuramente sanno gli storici dell'architettura, soprattutto, negli anni 90, come una delle vie per una storia urbana che uscisse, che travalicasse le analisi troppo rigidamente derivate dalla sociologia e, diciamo, per far breve, in termini di classe, e conciliare, invece, lo studio dei discorsi e delle strutture. In questo senso, faceva parte di una più profonda e generale revisione storiografica, diciamo, anche qui per farla breve, in termini post-marxisti e post-strutturalisti. Non mi dilungo su questo, ma vi propongo, almeno provvisoriamente, di definire l'identità urbana come il risultato dell'interazione tra le scelte strategiche delle élite, cioè le politiche, la creazione e la circolazione dei prodotti culturali in tutte le sue manifestazioni e declinazioni di questo termine, e l'evoluzione degli attori sociali. Un'analisi in tali termini mi pare particolarmente opportuna per un'epoca come il periodo tra il Sette e il Sette e il Sette, il Sette e il Sette e l'Ottocento, nel quale le identità urbane non sono più quelle di età moderna, cioè civiche, corporative, ma non sono ancora neanche quelle della città moderna e industriale. Ora, è ben risaputo, e qui andrò molto velocemente parlando a un consesso di esperti, che il Settecento è segnato dalla, ancora, ma in maniera forse più profonda e più ambivalente, dalla necessità di contrastare l'erosione del potere e dell'influenza di Roma sull'onda lunga di Vesfalia e il sistema degli stati confessionali assolutisti. Ancora una volta, una delle armi utilizzate a tal fine è la trascrizione dell'ideologia cattolica nella città, sulla città, attraverso la città. Il progetto di riaffermare l'autorità della Chiesa Romana e del suo capo visibile, rendendola visibile nel luogo di radiazione, è ovviamente un progetto antico che è data dal Medioevo, dalla Renovatio Urbis, dal Barocco e così via. E tuttavia, ora, nel Settecento, ha una inflessione particolare nella messa in valore del patrimonio storico, sia antico e quindi profano, sia moderno, generalmente sacro. Insomma, l'accento cade sempre più su questa storicità, su questa eredità plurimillenaria. Un vasto programma artistico e culturale modifica sia la dotazione, cioè le infrastrutture attraverso le quali si accede a questo patrimonio, sia il dispositivo che rende leggibile questa storicità che dovrebbe almeno rendere leggibile questa storicità di Roma. Ora, non ne dilungo qui con voi perché diciamo che una semplice enumerazione delle principali iniziative per esempio in materia di anticità profane mostra molto bene questo tipo di slittamento a partire dal pontificato di Clemente XI durante il quale si intrecciano ideologia classicista, sensibilità religiosa rigorista e primitivista e una cultura antiqualia antilibertina. Ma al di là delle motivazioni ideali c'è sempre di più ormai la necessità di rivaleggiare con le monarchie europee che hanno fatto delle anticità uno dei elementi diciamo di politica di grandeur e di affermazione e sappiamo anche quanto il mercato romano servisse ad alimentare questo tipo di politica. Dunque, quindi non mi dilungo però diciamo che si può andare dalle norme anti anti esportazione alla prima all'arricchimento del museo Clementino agli studi sulla colonna Antonina passando poi ovviamente durante il pontificato di Clemente XII attraverso l'acquisto della collezione Albani l'apertura e l'allestimento e l'apertura del museo capitolino e poi durante Benedetto XIV che è un po' lo zen di questa idea di Roma dispensatrice di norma che unisce storia natura e cultura quindi il polo diciamo l'allargamento di quello che chiameremo oggi noi il polo museale del Campidoglio la scuola del nudo l'accademia di storia romana e poi naturalmente fino a finire a Clemente XIII e soprattutto a Pio VI e ovviamente il pensiero va al museo più clementino e agli scavi sistematici e sapete naturalmente che ovviamente tutti pensiamo al famoso quadro del ricevimento degli ambasciatori dell'ambasciatore svedese nella sala ottagona del museo in cui effettivamente il museo Pio Filamentino diventa il vero emblema del Papa nelle vesti di sovrano illuminato e naturalmente intorno a questo c'è poi il mecenatismo aristocratico e nobiliare che è l'attività degli eruditi e degli intellettuali che contribuisce a questa declinazione questo è solo un angolo per raccontare questa vicenda perché in realtà in un convegno dedicato alla figura di un architetto e in particolare sulla cultura architettonica si potrebbe vedere questa evoluzione dal versante della storia dell'architettura e in particolare alludo al prevalere dell'architettura civile nei grandi cantieri settecenteschi ma soprattutto del secondo settecento perché ancora nel primo settecento l'aspetto sacro e profano in qualche modo si tengono in equilibrio e anche nei restauri parlo sotto l'autorità di Susanna Pasquali però pensiamo anche diciamo il Colosseo è l'esempio più noto più emblematico di questo equilibrio che poi invece nel secondo settecento tende anch'esso a svanire insomma a rompersi insomma per farla breve diciamo che il ruolo centrale certo tradizionalissimo che viene attribuito alla promozione delle arti e alla memoria dell'antico per riaffermare rilanciare il posto di Roma quale unica dispensatrice della norma cioè l'universalismo tende a farsi sempre più ambivalente ovviamente i presupposti che animano il Papa e l'elite ecclesiastiche sono sempre gli stessi se non la formazione della religione cattolica del papato nella sua doppia veste di pontefice e di sovrano e quindi i monumenti antichi e moderni sono posti in perfetta contiguità anzi come dicevo prima Roma è il luogo dove questa storia salvifica si dà a vedere ancora e di nuovo e tuttavia questa diciamo tensione tra Roma sacra e Roma profana è latente e si accentua a misura che si mette l'accento sulle antichità e sull'arte profana per accrescere la forza di attrazione e di radazione di Roma e in altre parole in qualche modo questa è una strategia per parlare all'Europa dei lumi ma che finisce per offuscare l'unità mistica indivisibile di sacro e profano ed è qui che entrano in gioco le tante presenze con cui abbiamo cominciato perché effettivamente Roma lo abbiamo già detto diventa la meta di una folla crescente di visitatori di tutti i paesi e di tutte le confessioni che ne fanno l'apice di un'iniziazione culturale che però si svuota di contenuti religiosi tutte le fonti di cui disponiamo dai diari alle corrispondenze dalle guide di viaggio alle raffigurazioni documentano questa selezione intellettuale ed affettiva nell'esperienza di Roma ora per questi viaggiatori mondani il mecenatismo papale moltiplica le occasioni di piacere e di istruzione cioè in altri termini amplifica la possibilità di vedere Roma in una luce desacralizzata al contrario ma non entrerò in questo tema non vi preoccupate di quello che succede per i ceti popolari che tra l'altro vivono tutta una serie di trasformazioni pensate solo a Trastevere e come la costruzione del San Gallicano isola praticamente il quartiere dal dal resto della città ancora più di quello che già non era insomma Roma si moltiplica in tante città in tanti itinerari è una Roma cosmopolita nel senso che diventa il luogo di espressione di proiezione di differenze irriducibili se non nel senso proprio appunto del cosmopolitismo cosmi vabbè avete capito dei lumi di una comune appartenenza al genere umano ora credo di aver già parlato parecchio però piuttosto che insistere su questi aspetti ideologici e culturali vorrei attirare la vostra attenzione su quelle come vogliamo definire le basi materiali diciamo di questi fenomeni allora intanto banalmente queste presenze così diverse impongono luoghi mode nuove che entrano in risonanza con l'evoluzione della società romana nel suo complesso piccola parentesi economica allora la società romana del settecento vive alcune trasformazioni silenziose che erodono gli equilibri su cui si basava il potere temporale della chiesa del papato è un'economia non particolarmente dinamica finanze pubbliche sull'orlo del default come si direbbe oggi che degradano le condizioni di vita dei centri popolari ma lasciano un margine per la crescita di una borghesia della rendita di una piccola cerchia di imprenditori diciamo moderni capitalistici e un mondo delle professioni che si va diversificando ora in questa società a suo modo infermento la presenza degli stranieri galvanizza il processo di secolarizzazione degli strati superiori e per converso la chiusura identitaria di quelli popolari il contrasto con gli ambienti cosmopoliti porta idee pratiche della cultura mondana dei lumi che si accordano tutto sommato abbastanza male con il carattere sacro ed esemplare che si vuole sempre conservare a Roma non c'è solo il salotto e le accadene e qui sarei veramente mancherei di gusto se mi soffermarsi su questo tema riprendendo insomma che sapete essere diciamo già da me stato trattato ma anche tutta una serie di nuove pratiche sociali che prendono piede quindi l'anno trascorse inclusa la quaresima con grande scandalo degli ambienti curiali tra accademie di musica spettacoli rinfreschi passeggiati fuori porta visite alle antichità come abbiamo nella locandina del nostro convegno in la musica in particolare fatta nelle case è un buon tradunione di questi ceti alti della società romana e persino la vita teotrale cambia perché durante il pontificato di Pio VI si allunga la stagione perché si apre una stagione straordinaria nell'epoca di Natale e che non esisteva era vietatissima prima e si aprono nuove sale più profondamente è tutto un mondo che sembra indebolirsi mentre si profila la crisi di fiducia tra la chiesa di Roma e l'Europa e punto cruciale tra la nobiltà le nobiltà italiane e la curia risultato di processi di monta più lunga durata a tale riguardo occorre in primo luogo evocare la diminuzione costante delle rendite ecclesiastiche di valio tipo non mi dilungo perché Mario Rosa ne ha parlato e l'ha documentato ampiamente nei suoi studi oltretutto questa diminuzione delle rendite ecclesiastiche fa sì che nello Stato pontificio la pressione fiscale aumenti e dunque le condizioni soprattutto delle classi popolari si aggravino ma fondamentalmente diciamo per farla breve e poi ovviamente il giurisdizionalismo dei governi nella seconda metà del Settecento ha scento a questa crisi anche perché non solo c'è un incameramento diretto dei beni delle rendite una predilezione per il clero nazionale nell'innomine a tutta la gerarchia diciamo dei vari stati italiani e soprattutto c'è un scusate chiaramente i cardinali poveri i brellati poveri sono sempre esistiti è un fenomeno da sempre della curia romana e tuttavia sembra abbastanza generalizzarsi tranne eccezioni ovviamente e non basta a compensarlo quello che è stato chiamato il piccolo nepotismo soprattutto sotto Albani e Braschi insomma d'altra parte la diminuzione delle rendite ecclesiastiche non è compensata da da un affoggio delle famiglie cioè perché in poche parole si sta disinvestendo dalla carriera ecclesiastica un po' perché non è più non conviene più molto banalmente non è più un'opzione un po' perché gli apparati dello Stato si stanno sviluppando e quindi c'è una soluzione di ripiego per tanti cadetti e terzo fattore la cultura dei lumi è più incline a rispettare le scelte e la vocazione individuale quindi a non costringere necessariamente alla carriera curiale allora in generale cerco di accorciare naturalmente però non vale la pena adesso di entrare nei dettagli ci sono diciamo degli schemi diversi perché la grande nobeltà renicola in particolare siciliana la grande nobeltà la nobeltà sabauda continua diciamo abbastanza a lungo in questi schemi di carriera viceversa i domini asburgici le antiche repubbliche disinvestono molto prima allora per esempio e qui sarò breve se ci limitiamo a dare un'occhiata anche molto cursoria alla nobeltà romana e pontificia che poi è quella che più generalmente più spesso risiede a Roma è attiva a Roma è chiarissimo la crisi diciamo demografica anche in famiglie principalissime come si sarebbe detto cioè per limitarci a questo esempio il cardinale Francesco Barberini Junior muore nel 1738 e non prima del 1826 sarà creato un altro cardinale Barberini l'ultimo cardinale colonna è Marco Antonio Junior morto nel 1793 e per colonna di Sciarra colonna Panfile colonna 1780 e 1796 dopo la restaurazione come è nota si assiste a un rilancio perché c'è questa polarizzazione tra bianchi e neri diciamo fondamentalmente tra la grande nobeltà pensiamo alla grande nobeltà francese diciamo che torna sono scelte ideologiche ma di fatto non interrompe il trend generale quindi insomma in generale si può dire che la curia romana del 1700 nei ranghi medi fino al vertice del collegio cardinolizio presenta un diffuso abbassamento del livello sociale di origine e un'accentuata provincializzazione non occorre dilungarsi su tale caratteristica se guardate al profilo dei papi del 700 in cui a parte due grandi famiglie feudali antiche come i conti e gli orsini abbiamo tre membri di patriziato cittadino della provincia pontificia Albani Lambertini e Braschi un monaco romagnolo e una famiglia di nobeltà fiorentina proveniente dalla banca come i corsini e un nobile veneto di recente nobiltà come il rezzonico come a dire la crisi dell'universalismo romano e anche crisi di uomini e di mezzi ora io non ho una vera conclusione per questo mio intervento che voleva soprattutto offrire alcuni elementi di riflessione di contesto forse un po' meno considerato quando che non la storia culturale tuttavia mi pare di poter dire che allo stato attuale del dibattito e della ricerca se c'è una comunità scientifica che è meglio accolto lo iato e persino la contraddizione tra linguaggio universalista e linguaggio cosmopolita del settecento romano ma in generale questa è la comunità degli storici dell'arte e quindi credo che questo convegno ancora una volta porterà dimostrerà questa attenzione grazie ringraziamo Maria Pia Donato di questa importantissima relazione della quale forse si parlerà in seguito sulla quale si ritornerà in seguito e preghiamo Piervaleriano Angelini di venire al venire qui col suo intervento Giacomo Quarenghi Bergamasco a Roma e in Europa probabilmente sarà un intervento estremamente importante perché nessuno più di lui conosce Quarenghi grazie